Donne affette da patologie alopecia post-terapia è un contributo dell'ASP per superare il disagio. Le donne sottoposte a trattamenti chemioterapici affette da alopecia per altre patologie possono accedere a un contributo economico per l'acquisto di una parrucca. Ne dà notizie il commissario straordinario dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone per una massima diffusione anche tra i medici di Medicina Generale. L'assessorato regionale della salute ha dato attuazione all'erogazione di un contributo al quale possono accedere tutte le donne residenti in Sicilia che ne abbiano i requisiti. Una disposizione rilevante che interviene in particolare in situazioni di cura che gravano sulle donne che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico. Con il supporto dei direttori sanitari e amministrativi pertanto ho disposto la deliberazione di presa d'atto del decreto con la pubblicazione nel sito internet aziendale dell'avviso e dato mandato a tutti gli uffici proposti di darvi seguito e puntuale adempimento con una capillare divulgazione affinché tutti coloro che ne abbiano diritto possono usufruirne. Possono accedere al contributo economico tutte le donne di ogni età che risiedono in Sicilia e che sono affette da alopecia a seguito di terapia oncologica o quale conseguenza di altre patologie che non hanno già fruito in precedenza di analogo contributo e che risultino titolari di ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 30.000 euro. L'importo del contributo massimo erogabile per ciascuna beneficiare è quantificato in 300 euro e non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto della parrucca. L'acquisto della parrucca